Sopravvissuto all'Olocausto, sostenitore del dialogo tra religioni, a rabbino di New York, Artus Schneier, il governo italiano ha conferito la stella al merito della solidarietà italiana. Una cerimonia simbolica al Consolato italiano nel giorno della memoria, anche per la presenza del nuovo arcivescovo di New York, Timothy Dolan, che ha salutato il rabbino come un eroe per il suo contributo a costruire un ponte tra Santa Sede e mondo ebraico. Per me è un onore ricevere questa onoreficenza. Ho un grande rispetto e amore per gli italiani, per la loro cultura. Ho un'antica e stretta relazione con la Chiesa Cattolica, con il Papa Benedetto XVI, che ho ospitato nella sinagoga in occasione della sua visita a New York. Mi sono sempre battuto per il rispetto di tutte le religioni e i diritti umani. Ricordando il giorno della memoria, Schneider sottolinea il suo apprezzamento per la decisione italiana di disertare la conferenza di Ginevra dopo le dichiarazioni di Ahmadinejad contro Israele. Se neghiamo la storia, non impareremo dal passato e rischiamo di ripetere gli stessi errori. La memoria è importante, ma non bisogna farsi paralizzare dal passato. Alla cerimonia parole di solidarietà anche per le vittime del terremoto in Abruzzo. Un saluto per il Cibescovo Dolan alla comunità italiana di New York. Sono molto contento perché ci sono tanti italiani qui in New York. Ci sono tanti parocchi italiani, ci sono tanti italiani. Siamo tristi adesso perché è il terremoto. e preghiamo per l'Italia e faremo aiutare tutti i vittimi. e preghiamo per l'Italia e faremo aiutare tutti i vittimi. Grazie. 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 Grazie a tutti.